Prima della reggia ci furono alcune capanne simili a quelle rinvenute sul Palatino, poi nel VII secolo fu realizzata una prima struttura in muratura. Nel VI secolo a.C. ci fu un incendio, al quale seguirono due rifacimenti. Agli ultimi anni del VI secolo a.C. risale la forma definitiva, che vediamo dai resti e da questo disegno ricostruttivo. Il periodo corrisponde con l'inizio della Repubblica. L'edificio è composto da due parti, una a sud, allungata, orientata sull'asse est-ovest e suddivisa in tre ambienti. Quella centrale era l'ingresso, che dava accesso a entrambi gli ambienti laterali. Quella ad est probabilmente era il santuario di Ops e quella ad ovest era probabilmente il santuario di Marte, dove c'era un altare circolare. L'altra parte dell'edificio, a nord, era di forma trapezoidale, con un doppio porticato e dove c'era un silos. L'edificio, così come composto, era quindi un santuario in forma di casa. A sud si affacciava una strada, identificabile con il Vicus Veste, ricordato da un'iscrizione, che la divideva dal Tempio di Vesta, con il quale era funzionalmente collegato. La pianta della reggia, così come l'abbiamo descritta, si mantenne nel tempo e quindi evidentemente era considerata sacra. Ci furono infatti delle ricostruzioni, nel III secolo a.C., nel 148 a.C. e nel 36 a.C., ma la forma rimase la stessa e si conservò così fino all'età imperiale. Ora vediamo il carcere, che qui non è numerato perché l'autore di queste piantine l'ha voluto sistemare nella piantina del Campidoglio, però per esempio l'archeologo Filippo Quarelli, nella sua guida, lo inserisce appunto nel foro romano. Il carcere comunque si trova qui e qui ci passa il Clivus Argentarius, che è il nome tardantico di quello che in origine si chiamava Clivus Lautumiarum. Il carcere oggi si trova al di sotto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. Quello che c'è rimasto costituisce solo una parte dell'antico complesso e probabilmente corrisponda alla parte più interna e segreta, detta Tullianum. Da questo nome deriverebbe l'attribuzione a Servio Tullio o a Tullo Stilio, ma secondo Livio il fondatore era Ancomarcio. Molti ambienti della prigione si trovavano lungo le pendici del Campidoglio ed erano noti con il nome di Lautumie, perché erano ricavati all'interno di antiche cave di tufo. Nella stanza in cui si entra, che è nella parte superiore chiamata propriamente Carcer ed è databile al II secolo a.C. poiché è costruita in blocchi di tufo di Monteverde della Niene, ci sono delle scale moderne che portano giù alla parte antica chiamata, come abbiamo detto, Tullianum. Ma nel pavimento si apre un foro circolare che era un tempo l'unico accesso a questo ambiente sottostante. Il Tullianum era la parte più terribile della prigione perché qui venivano gettati e poi strangolati i prigionieri di Rango, dopo aver seguito il trionfo dei generali romani. Questo accadde a Giugurta, Vercingetorige, ai partigiani di Gaio Gracco e a quelli di Catilina e anche ad altri. È però ad escludere la leggenda medievale degli imprigionamenti in questo luogo dei Santi Pietro e Paolo, ricordata da una lapide, meglio visibile nella foto di destra. Nella lapide infatti dice che i due Santi furono incatenati alla colonna sottostante e che avrebbero fatto miracolosamente scaturire acqua per battezzare i carcerieri da loro convertiti. Il Tullianum ci è descritto in maniera precisa da Sallustio, che visse nel I secolo a.C. Egli scrisse una monografia storica dal titolo Sulla congiura di Catilina e in quest'opera vi racconta quanto fosse in ospedale e ripugnante questo luogo. Racconta infatti, vi è un luogo nel carcere chiamato Tulliano, un poco a sinistra salendo, sprofondato a circa 12 piedi sotto terra. Esso è chiuso tutto intorno da robuste pareti e al di sopra da un soffitto, costituito da una volta di pietra. Il suo aspetto è ripugnante e spaventoso per lo stato di abbandono, l'oscurità, il puzzo. Andiamo ora a vedere il Tempio di Vesta e subito dopo la Casa delle Vestali, questo è il Tempio e questa è la Casa, poiché è tutto un complesso unitario collegato topograficamente e funzionalmente con la Reggia e con la Casa del Pontefice Massimo e del Rex Sacrorum. Il complesso di Vesta si trova topograficamente alle estreme pendici del Palatino, ma amministrativamente sappiamo dalle fonti che faceva parte del sistema del foro. Allora, innanzitutto un'introduzione perché ci troviamo davanti a un monumento molto molto importante del foro romano. Lo scavo è complesso, dura da oltre un secolo, pensate che solo gli scavi recenti durano da oltre vent'anni. Ma gli scavi antichi, come del resto anche per altri monumenti, hanno a volte fatto più danni che bene, erano scavi poco affidabili. Questo perché una volta si avevano meno conoscenze, si aveva meno cura, non si usava il metodo stratigrafico per riconoscere la successione cronologica dei vari rinvenimenti e quindi la stratigrafia andava persa, non si documentavano accuratamente le varie scoperte, eccetera eccetera. Il primo a scavare qui fu Giacomo Boni nel 1900. Dal 2001 gli scavi al Tempio e alla Casa delle Vestali sono coordinati da Nicolaus Arvanitis, che ha affiancato l'archeologo Andrea Carandini. Arvanitis ha lavorato per anni agli scavi sulle pendici del Palatino e ha anche lavorato a Gabbi, collaborando con l'Università Torvergata di Roma. Questa è la sesta squadra di archeologi che scava il complesso del Tempio e della Casa delle Vestali, da nove anni circa. Introduciamo ora questo culto. Vesta, o in greco estia, è una divinità di primaria importanza dal punto di vista religioso e politico e ha un altissimo valore simbolico. Vesta è l'adea del focolare domestico, dunque protegge la famiglia e la vita domestica, ma il suo Tempio rappresenta il sostituto del focolare domestico più importante, cioè quello della casa del re, che rappresenta e simboleggia tutti gli altri. Dunque quello di Vesta diventa il focolare comune della città, il focolare di Stato. Estia significa appunto focolare. Ovunque ci sia il culto di Vesta, significa che quella comunità ha acquisito un carattere di tipo statale e Vesta protegge lo Stato e la città. Dunque è una divinità relativamente nuova al panteon della religione antica, nasce solo quando nasce la città, la polis, intorno all'VIII secolo a.C. Quando si fondavano delle nuove città, delle colonie, i fondatori portavano con loro dentro una pentola un po' del fuoco sacro a Vesta, per porre la nuova città sotto la sua protezione. Essendo Estia un concetto astratto divenuto divinità, non conosce nella mitologia greca un suo mito, come invece Zeus, Hera, eccetera, e in origine non ha nemmeno una sua iconografia. Dunque si dice che è una divinità di tipo aniconico. Le prime raffigurazioni di Estia sono abbastanza tarde.